Qui siamo nella scuola dell'infanzia Montessori Sanzisto dell'Istituto Comprensivo Mazzini. Noi ringraziamo questo progetto Erbaria e lo abbiamo sposato con tutto il cuore perché la nostra scuola è molto attenta ai temi dell'ecologia e abbiamo spiegato proprio in questi giorni ai nostri bambini dell'infanzia l'importanza delle api e degli zetti pollinatori. La nostra associazione farà un'attività teorico-pratica per sensibilizzare le criticità che hanno le api nel sopravvivere ma soprattutto far scoprire ai bambini il fantastico mondo delle api. Questo è un lavoro molto importante da fare soprattutto con i bambini dai 3 ai 5 anni perché è importante far sensibilizzare i bambini su questi temi della salvaguardia dell'ambiente già a partire da l'età più infantile. Oggi sicuramente parleremo dell'importanza delle api nell'ecosistema ma soprattutto in un contesto di una sana alimentazione perché senza le api alcuni prodotti, anzi tantissimi prodotti alimentari che sono fondamentali nella nostra alimentazione come frutta e verdura non ci sarebbero.